Un finale di campionato che ha visto le due pretendenti al titolo finire a pari punti, nonostante la tripletta del Bomber Palma. Sì, sicuramente. Siamo primi non vincitori, sia noi che la frattese. Abbiamo raggiunto la quota di tutte e due squadre di 71 punti e non sono bastate per decretare il vincitore di questo girone. Anche ieri tutte e due le squadre hanno vinto le rispettive gare, quindi andiamo avanti, ci sarà lo spareggio. Questo spareggio è uno spareggio fondamentale, quest'anno è il quarto calcio per la legalità, disputate veramente un campionato eccellente, sotto la spinta anche della società che ha voluto fortemente questa squadra anti-racket, se vogliamo. Sì, sicuramente. A oggi il bilancio è estremamente positivo. Noi abbiamo sempre parlato del doppio binario di questo campionato, sia nell'etica e nel sociale che nella cosa spettamente sportiva. Penso che in tutti e due i rami abbiamo raggiunto ottimi risultati. Il progetto è andato avanti e la realtà sportiva è arrivata prima. Adesso entra in gioco il mister, dovrà preparare una partita, che è la partita della vita per la squadra. Sicuramente il mister avrà il suo lavoro da fare, però il merito grosso va sempre ai ragazzi che vanno in campo. In questo momento stiamo attraversando un ottimo periodo di forma, spero di poterlo mantenere fino a quando ci sarà lo spareggio. I giocatori che ha a disposizione stanno tutti quanti bene, quindi non avrà problemi di formazione? No, fortunatamente oggi stanno tutti bene, non avremo né problemi di formazione né problema di squalifica. Quindi arriviamo, penso, tutte e due le squadre nei migliori dei modi. Credo che sia anche sotto un certo punto di vista il miglior finale di stagione, con due squadre che se la sono contesi alla pari e hanno fatto un ottimo campionato. In percentuale il quarto calcio può aspirare al 51% in tema di probabilità? No, io credo che in queste partite ci sia il 50% di tutte e due le squadre, perché poi è una partita secca. Sicuramente noi ci eravamo prefissati di essere promossi, di vincere il campionato in tre modi. Arrivando primi, vincendo l'eventuale spareggio o attraverso i play-off. Uno è andato via perché non siamo riusciti ad arrivare i primi. Adesso speriamo di approfittare dello spareggio. Grazie a tutti.